mi serve perché sennò devo usare la caldaia di gas per scaldare l'acqua apertura delle finicate prima l'astra di ispezione la mettiamo sul computer Bettini saluti youtube ma come come funziona con l'affare di adesso facciamo le riprese perché le vogliamo mettere su youtube per per far vedere come si fanno le manutenzioni quindi io posso andare a vederlo si si il sito è www.pellefemilia.com adesso lo scrivo nel nostro sito la prima operazione è stata quella di togliere il coperchio aprire le varie due fiancate della caldaia dopo procederemo all'apertura di questa piastra della piastra davanti e delle piastre laterali dopo un anno di funzionamento la caldaia è ben tenuta non ci sono grossi problemi di polvere diciamo sulla parte superiore viene utilizzato pellet di abete rosso Ennerless